Buongiorno signori e signori, come ogni anno mi espongo a figure di merda con i miei consigli per il Dunkest 2022-2023. Benvenuti! Buongiorno a tutti ragazzi, come ogni anno proviamo a dare i consigli per gli acquisti per Dunkest. Perché Dunkest? Perché sul mercato è quello un po' più tattico, perché se vuoi avere in futuro i migliori giocatori devi cercare di puntare dall'inizio su quelli che pensi che valgano meno come costo base rispetto al loro reale valore o il reale potenziale futuro. Quindi prendere giocatori a cifre basse per rivenderli a cifre alte e puntare ai giocatori migliori. Si chiamano plus valenze e sono vitali per scalare la classifica in Dunkest. Direi di partire dai centri. Il principale nome che vi faccio, quello che costa di più, tralasciando i vari Jokic, Embiid, Towns, Volendo e altri che sono certezze vi do il nome di Alperen Sengun. Il turco degli Houston Rockets costa 9,2 crediti e all'interno degli Houston Rockets è uno di quei lunghi che può fare veramente tutto, dal mettere punti a referto al passare la palla al andare a rimbalzo. Ci sarà, oltre a Sengun, anche Jabari Smith come lungo ulteriore all'interno del roster degli Houston Rockets ma credo che Sengun giocherà da numero 5 in questo roster molto giovane e di prospettiva e tendenzialmente è l'unico all'interno dei 5 starting 5 propenso ad andare forte a rimbalzo. Per cui, come sapete, Dunkest premia molto le doppie doppie e le triple doppie. Nel rapporto qualità-prezzo e prospettiva futura, Alperen Sengun, secondo me, ha 9 crediti e 2. È un buon affare. Andiamo poi su tre scommesse 3. La prima è Willy Hernan Gomez, l'NVP di Eurobasket 2022. Lo spagnolo è di fatto il centro di riserva dei New Orleans Pelicans. Attenzione perché Valanciunas è il centro titolare. Normalmente ci sarebbe Jackson Hayes a giocare come centro di riserva anche se molte volte in passato, l'anno scorso, li ha schierati addirittura assieme, Valanciunas ed Hayes led coach. Quest'anno però Hayes non inizierà fin dall'inizio della stagione perché si è fatto male. Giocherà sicuramente Willy Hernan Gomez che è una macchina da doppie doppie. Anche se gioca poco minutaggio, lui i suoi punti, i suoi rimbalzi li fa comunque sempre ed è un giocatore, secondo me, su cui puntare in questo primo periodo di stagione per una plusvalenza per poi rivenderlo e magari guadagnarci qualche soldo per comprare qualcuno di più forte. Gli altri due centri che mi sento di consigliarvi sono tutti e due veramente a bassissimo prezzo e bassissimo rischio di conseguenza e sono Noah Vonley dei Boston Celtics a quattro crediti e uno perché mancherà sicuramente per qualche settimana, forse qualche mese, Robert Williams Time Lord il solo a Lordford non può giocare 48 minuti, Luke Cornett io non lo reputo in grado di giocare Noah Vonley che in questa prestagione ha preso una caterva di rimbalzi per cui sempre nell'ottica di doppie doppie possibili, Noah Vonley ha quattro crediti e uno secondo me un minimo di spazio lo avrà e è uno che statistiche le mette. Il secondo nome a quota 4, quindi non può sicuramente perdere valore perché 4 è la quota minima di crediti spendibili per un giocatore in Dunkest è Nimias Queta che sarà o comunque partirà come terzo centro in quel dei Sacramento Kings ma attenzione perché a me personalmente in Summer League ha veramente convinto parecchio e soprattutto è a rischio zero, nel senso che costa 4 se vedete che nel primo periodo non mette piede in campo potete rivenderlo a 4 senza avere una minus valenza Passiamo quindi alle ali, il primo nome che vi faccio costo 10 crediti e 4 Lauri Markanen che è l'unico vero lungo a disposizione degli Utah Jazz ok c'è lo zio Zeller, va bene tutto, però attacco e difesa, più che altro attacco e rimbalzo è un sette piedi è un giocatore che secondo me potrà avvicinarsi a quasi 20 di media nella prossima stagione NBA facciamo 18, è un giocatore che Euro Basket ha dominato, è un giocatore che volendo va forte anche a rimbalzo ovviamente a Cleveland non lo faceva perché giocava da numero 3 e aveva due lungagnoni oltre a lui a giocare nel ruolo di 4 e 5 ma agli Utah Jazz secondo me potrebbe avere una discreta plusvalenza fin da subito Lauri Markanen quindi è il primo nome che vi faccio, 10 crediti e 4 Il secondo nome che vi faccio e questo dal mio punto di vista è un furto tanto quanto lo era l'anno scorso la Melo Bola 11 è Brandon Clark a 8 crediti e 7 per i Memphis Grizzlies perché? Perché Jaren Jackson Jr. mancherà fino a fine anno e quindi Brandon Clark inevitabilmente sarà l'amicone di Jamorant per quanto riguarda eventuali lob ma anche per quanto riguarda minimo di produzione offensiva sotto il ferro Brandon Clark che potrà giocare da 5 al posto di Adams o da 4 eventualmente anche magari quando c'è Tillman in campo sicuramente è una macchina da doppie a doppie se il minutaggio suo aumenterà a 8 e 7 crediti è potenzialmente un gran furto e quasi certa plusvalenza ve la butto lì, so che non andrà così ma ve la butto lì, ve la do per certa, plusvalenza certa e infine andiamo alle ultime due ali diciamo come per i centri a basso rischio e a potenzialmente alto risultato la prima è Alice Johnson ala dei San Antonio Spurs lo abbiamo visto in questa parte finale insomma quasi di pre-season ed è un giocatore che può avere il suo spazio può avere il suo spazio a San Antonio perché? Perché non c'è nessun altro cioè c'è Keldon Johnson, poi c'è Alice Johnson e poco altro diciamo quindi è un nome che per 4 crediti e 4 può essere speso nell'ottica di magari vederlo cominciare bene fargli fare una plusvalenza leggera o pesante vedremo e poi venderlo per andare su qualcuno che costa di più Alice Johnson è il primo nome, il secondo nome My Man, Sandro Mamuke Lasvili, furto a 4 crediti e 3 avrà certamente spazio nei Milwaukee Bucks di quest'anno ma proprio certamente ed è un giocatore che in campo sa fare tutto è un giocatore che può mettere punti, può mettere assist, può andare a rimbalzo forte ragazzi 4 crediti e 3, Sandro Mamuke Lasvili, furto, furto, furto e andiamo poi al reparto guardie dove vi ricordo do sempre i nomi per quanto riguarda le possibili plusvalenze e non vi do i nomi classici perché sarebbe troppo semplice dire ma io punterei su Doncic, è grazie al cazzo che punterei su Doncic, pure io però in Dunkest bisogna ragionare prendendo quei giocatori che tu pensi possano avere una plusvalenza per cui il primo nome che vi faccio è sicuramente quello di Devin Vassell a 9 crediti e 8 per i San Antonio Spurs, avrà tanto 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 palla in mano e mi auguro che possa avere anche un brillante futuro da un punto di vista statistico in una squadra che è la peggiore in NBA ma proprio senza mezzi termini prendere giocatori mezzi sconosciuti che costano poco dei San Antonio Spurs in questa annata particolare di Dunkest è un buon affare potrebbe essere potenzialmente un buon affare io ormai su Keldon Johnson non ci scommetto più quindi non ve lo consiglierò vi consiglio però Devin Vassell almeno fin tanto che non mi dimostra anche lui che tutte le mie forze spese per quel nome non siano andate giù per il cesso come è successo per Keldon grazie Keldon secondo nome che vi faccio Treman guardia degli Oklahoma City Thunder perché ve la consiglio? perché mancherà sicuramente Shea Gilgis Alexander nelle prime giornate oddio è lì lì però mi auguro che Sam Presti decida di tenerlo fermo Treman l'anno scorso è andato in doppia cifra per punti occhio quindi 6 crediti e mezzo è una buona cifra per puntare a fare una plusvalenza immediata quindi le prime 3, 4, 5 giornate plusvalenza Treman e poi lo si vende perché rientreranno Shea Gilgis Alexander almeno fin tanto che non si reinfortuneranno di nuovo perché tanto quello capiterà quindi Treman guardia degli Oklahoma City Thunder a 6 crediti e mezzo e andiamo poi su due mezze scommesse in realtà la prima è RJ Hampton degli Orlando Magic 5.5 crediti perché RJ Hampton? Perché ragazzi sono rimasti lui e Colentoni cioè già Lance Suggs si è fatto male Markel Fultz si è fatto male Gary Harris si è fatto male nel reparto guardie degli Orlando Magic ci sono lui e Colentoni quindi RJ Hampton sicuramente avrà minutaggio all'interno di questo inizio di stagione degli Orlando Magic se riesce a sfruttarlo sicuramente noi ne ricaveremo un'ottima plusvalenza da 5.5 crediti che è il costo attuale mi auguro che possa arrivare a 6 o 6 e mezzo entro molto breve per cui ragazzi RJ Hampton è il primo nome scommessa ma non troppo a basso prezzo il secondo nome è quello di Tai Tai Washington 4 crediti e mezzo è il playmaker di riserva degli Houston Rockets è un rookie quindi non è scontato che possa far bene però a 4 crediti e mezzo io me lo spendo perché è un giocatore che sulla carta punti ma soprattutto assist quindi sempre per la questione doppie doppie sempre per la questione non solo scorer ma anche altro Tai Tai Washington può essere un nome spendibile a maggior ragione se Houston da un certo punto in poi decidesse di tancare male quindi sai cosa c'è? KPJ sta fermo Jalen Green boh lo infortunio gioca Tai Tai Washington e si va a perdere miseramente andiamo infine all'head coach io ragazzi head coach vi posso consigliare quello per la prima giornata perché sapete che un'altra prerogativa di Dunkest è quella ogni giornata di rifare praticamente tutta la formazione in base a quelli che sono gli accoppiamenti le sfide che ci sono in essere in quella specifica giornata al tier se giocano nel T1, T2, T3, T4, T1000 l'allenatore che vi consiglio per la prima giornata è quello ragazzi che costa meno ovvero Greg Popovich a quota 6 crediti e gioca contro gli Charlotte Tornets una squadra che forse mentalmente sta pure peggio dei San Antonio Spurs gioca in casa quindi giocano a San Antonio opening night risultato totalmente impronosticabile ma occhio perché a 6 crediti Popovich, opening night in casa contro una squadra messa peggio di loro potrebbe scattarci la plusvalenza immediata dopo una sola giornata quindi non vi consiglio un allenatore per la stagione intera ma vi consiglio di cambiarlo ogni singola giornata valutando gli accoppiamenti per la prima io mi piglio Popovich e ho finito quindi di consigliarvi i giocatori per il Dunkest 2022-23 la stagione comincerà tra una settimana vi ho dato 4 centri, 4 ali, 4 guardie e un head coach cioè ragazzi dove lo trovate un altro che vi spara nomi così esponendosi all'ingiuria e peggiori? qui ragazzi buona giornata il Franz 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 il Franz